Musica Bene, l'ultimo ospite di questa sera è Claudio Bellotti, buonasera Bellotti, lei rappresenta qui la lista per una sinistra rivoluzionaria, presento anche a lei le colleghe giornaliste che ci stanno accompagnando in questa conferenza stampa che sono Monica Rubino della Repubblica, buonasera, buonasera, Elisabetta Margonari del Tg3, buonasera, e Barbara Tedaldi dell'Agenzia Giornalistica Italia, buonasera, e prima di cominciare vediamo un'occhiata a come è andata la vostra. La vostra campagna elettorale con questo servizio di Francesca De Martino. Da un lato il pugno chiuso di sinistra classe e rivoluzione, dall'altro la falce e il martello del partito comunista dei lavoratori, insieme per una sinistra rivoluzionaria, lista che trova consensi anche tra le generazioni più giovani, specie nella rossa Emilia-Romagna. Incontri, confronti, riunioni anche di sera, la soluzione c'è, si chiama rivoluzione e guai a parlare di utopia. Si riparte dalle nazionalizzazioni perché il potere va ai lavoratori che la crisi ha reso sempre più poveri. C'è una minoranza ristrettissima che si stacca parlando sempre di più e butta le briciole alla maggioranza e dice adesso scarnatevi per le briciole. Forbice troppo ampia, quella tra i pochi milionari del pianeta e il resto della popolazione. Nel 2017, 70 persone, 70 persone, cioè molte meno di quelle che sono in questa sala, hanno incassato più di mille miliardi di dollari. Per sinistra rivoluzionaria dunque nessuna alleanza è possibile, tantomeno con Liberi e Uguali. Liberi e Uguali è la sinistra satellite del PD. Gli ex del PD si alleano con gli ex alleati del PD per fare una lista che vuole allearsi col PD. Da nord a sud l'onda rossa colpisce sempre le grandi aziende che, dicono, hanno preso sussidi ma non hanno ridistribuito ricchezza. Ma qual è il governo che può realizzare queste misure di rottura col capitalismo? Solo un governo dei lavoratori basato sulla forza e l'organizzazione dei lavoratori. Io vorrei cominciare chiedendole che cosa pensa lei del clima politico che si è creato in questo ultimo scorcio di campagna elettorale. Mi hanno appena portato un'agenzia che parla di scontri tra i manifestanti, un corteo antifascista a Torino, scontri con la polizia. Era un corteo che voleva contrastare un'iniziativa di Casa Pound. Insomma, è soltanto l'ultimo episodio. Ma che sta succedendo? Sta succedendo che in questo paese è stato disseminato un veleno fatto di razzismo, di discriminazione e anche di questo neofascismo che tenta di fare molto rumore. Sta succedendo che spesso i volettieri, anzi quasi sempre le istituzioni, le forze dell'ordine, anziché difendere la Repubblica, difendono i fascisti. E sta succedendo che, per fortuna, ci sono migliaia e decine di migliaia di persone che ritengono di dover reagire e di combattere questo tentativo di risorgente neofascismo con una mobilitazione aperta, di massa, a volto scoperto, come abbiamo visto in manifestazioni come quella di Macerata il 10 febbraio a Bologna pochi giorni fa e in tante altre piazze d'Italia. Rubino La prima domanda. Allora, questo è il vostro programma e questo è quello dell'ospite che l'ha preceduta, cioè Marco Rizzo dei Comunisti Italiani. Sono quasi sovrapponibili questi programmi per tantissimi punti, cioè avete un sacco di cose proprio scritte allo stesso modo. Che ne so, il lavoro al primo posto, il pagamento del debito, la nazionalizzazione del sistema bancario e così via. Perché non vi siete messi insieme? Perché questa frammentazione dell'atomo? Dove vi porta? La frammentazione della sinistra è il risultato di una sconfitta ventennale, si potrebbe dire. Non siamo qui, penso, per discutere il passato e le responsabilità, però è bene tenerlo presente. Pertanto crediamo, abbiamo creduto indispensabile in questa campagna elettorale concentrarci nella maggior chiarezza possibile dal punto di vista programmatico e dalla prospettiva. Io preferisco parlare per noi piuttosto che parlare di altri e in questa campagna elettorale i nostri avversari non sono principali, non sono le altre forze della sinistra. Sono il Partito Democratico, il Centrodestra, anche il Movimento 5 Stelle, che riteniamo le liste che si candidano a gestire gli effetti della crisi di questo sistema. Io credo che la sinistra può ritrovare forza, innanzitutto nella chiarezza politica, nell'unità laddove questa è possibile. Sono affezionato a un vecchio motto che dice marciare separati e colpire uniti, cioè trovare l'unità dove questa è veramente praticabile per battaglie precise e sicuramente anche in una ripresa di protagonismo, di movimenti, di lotta, dei lavoratori, dei giovani, eccetera, senza il quale questa situazione è sicuramente destinata a continuare. Elisabetta Margonari. Marciare separati, colpire uniti, però bisogna raggiungere il 3% poi alla fine. Qual è il vostro obiettivo in questa campagna elettorale, nelle urne fra dieci giorni? Se mi chiede un obiettivo numerico non ce lo siamo mai dato. Se mi chiede qual è il nostro obiettivo politico è di far emergere questa alternativa e questa posizione politica come un'opzione che si candida a dare una risposta a questa crisi della sinistra in questo Paese. Io credo che questo obiettivo lo stiamo raggiungendo. Mi permetto di aggiungere un'ultima cosa. Sappiamo cosa sono le elezioni in questo sistema politico e non solo. Sono un avvenimento che dura un giorno dopo il quale più delle volte tutto prosegue esattamente come era prima e i voti che sono stati dati contano quel che conta. Per noi il voto che raccoglieremo, tanto poco che sia naturalmente lottiamo perché sia consistente, sarà un impegno ogni voto che prendiamo a proseguire questo lavoro, questa ricostruzione sul piano della battaglia quotidiana, della mobilitazione sociale, politica, sindacale, nei luoghi di lavoro, nei quartieri, eccetera. E tentare di lavorare perché questo sia un punto di aggregazione e non semplicemente una percentuale, una cifra, un numero che esce su un tabellone il 5 di marzo e che poi viene dimenticato come tante volte è stato. Ed Aldi. Se voi superasse il 3% e quindi aveste dei parlamentari alla Camera e al Senato e servissero per dare vita a un governo, a quale governo direste di sì? Con chi vi alleereste? Nel quadro che è di questa campagna elettorale noi non abbiamo alleati possibili per un governo, se guardiamo quelli che sono i blocchi maggiori che potrebbero ipoteticamente chiedere un consenso. Noi consideriamo che tutti e tre questi schieramenti, mi riferisco appunto al centro-sinistra, al centro-destra e al Movimento 5 Stelle, non sono interlocutori per la nostra politica. Dunque saremmo una forza di opposizione in Parlamento come la siamo nella società e nel Paese. Senta, prima di proseguire, vogliamo dare un attimo uno sguardo al vostro programma e poi andiamo avanti con le domande. Prego. Il programma è in linea con il nome della lista stessa. Per una sinistra rivoluzionaria, promette. Punti essenziali, no al pagamento del debito pubblico contro un'Europa inflessibile e capitalista. Sì alle nazionalizzazioni, dalle banche ai trasporti, dalle telecomunicazioni all'energia all'acqua. E poi aziende espropriate sotto il controllo dei lavoratori. Abolizione del job sector, reintroduzione dell'articolo 18, ma anche salario minimo ai disoccupati. Orario di lavoro a 32 ore settimanali e blocco dei licenziamenti. Capitolo pensioni, anche qui si torna al passato. Via la riforma Fornero si va a casa con 35 anni di lavoro, 60 anni d'età e la pensione deve essere pari all'80% dell'ultimo stipendio. La sanità come la scuola, solo pubbliche e gratuite per tutti. Immigrazione si va oltre lo Ius Soli, cittadinanza dopo tre anni a chi ne faccia richiesta e diritto di voto per chi risiede in Italia da un anno. I diritti civili vanno estesi, via libera ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. Fisco stoppa le imposte indirette come IVA e accise, tasse fortemente progressive che vadano a colpire soprattutto i grandi patrimoni. Guerra ai grandi evasori, unica risposta possibile in questo caso l'esproprio. Quindi le risorse, perché il vostro programma è ambizioso per quanto riguarda il lavoro, una serie di garanzie anche molto forti, quanti soldi servirebbero e dove li prendereste? Soltanto con gli espropri oppure? Allora, noi abbiamo alcune cifre che ci aiutano a orientarci. Ogni anno l'Italia paga una tassa alla finanza che va dai 65 ai 70, alcuni anni 80 miliardi di euro solamente di interessi sul debito pubblico. Abbiamo ripagato 1700 miliardi di questi interessi in 20 anni ed è un prelievo automatico che il sistema finanziario fa al contribuente italiano che sappiamo che in larga misura sono i lavoratori dipendenti, pensionati e chi ha un reddito appunto, chi è salariato. Le cifre ci dicono che da 20 anni e più aumentano a dismisura tutte le diseguaglianze sociali. Questo lo sentiamo dire tutti i giorni. La concentrazione dei redditi è sempre più ristretta. Abbiamo poche decine di persone che hanno reddito e proprietà pari a quelle di milioni o a livello planetario di miliardi di persone. Dunque, chi dice che non ci sono risorse dice una menzogna o meglio, dice che non ci sono risorse dopo aver garantito la condizione di vita che definire privilegiata è dire poco di questa ristrettissima minoranza. Peraltro queste imprese sono state pesantemente sussidiate. Il Jobs Act è stato solamente l'ultimo atto che è costato, chi dice 17, chi dice 20, chi dice 22 miliardi di euro per un'occupazione che si è visto essere fittizia. Potremmo fare molti altri esempi. La sostanza qual è? Che il nostro programma non si propone di essere compatibile con i limiti imposti da questo sistema economico. Precisamente il contrario. Si basa sulla osservazione che la difesa e il miglioramento della condizione sociale è oggi incompatibile. Per cui il problema delle coperture non è un problema che ci poniamo, perché noi ci poniamo il problema di rompere questo gioco e questo schema. Monica Rubino. Qual è il vostro giudizio sull'Unione Europea? Sì, l'Unione Europea ha dimostrato nella pratica di essere uno strumento, potremmo dire una frusta, con la quale sono state imposte le politiche di austerità negli anni della crisi. Più in generale le politiche di precarizzazione, di privatizzazione, di messa sul mercato di tutto quello che poteva essere bene pubblico e bene comune, è una struttura completamente antidemocratica, come dimostra tutta la sua storia, e a nostro avviso è incompatibile con quello che è il nostro programma economico. Noi pensiamo che le aspettative, le illusioni che questa Unione potesse essere uno strumento di integrazione, di vicinanza, si stanno dimostrando esattamente il contrario. L'Unione Europea ha diviso e allontanato i paesi, i popoli, e ha aumentato questa forbice sociale negli ultimi trent'anni. Quindi vuol dire fuori dall'euro, fuori dall'Europa? Sì, noi diciamo questo, ma diciamo anche un'altra cosa, perché la nostra prospettiva, a differenza di altri, anche a sinistra, non è quella del ripiegamento nazionale. Noi pensiamo che sia vero che questo continente, e per la verità il mondo tutto, va verso l'integrazione, verso la mescolanza e non siamo certo per rinchiuderci nelle piccole patrie. E per questo nel nostro programma diciamo no all'Unione Europea capitalista, sì a una prospettiva che abbiamo chiamato un'Europa, una federazione socialista europea. Però non pensiamo che c'è un passaggio diretto dall'una all'altra. In altre parole, per andare verso la seconda bisogna prima demolire quello che c'è. Elisabetta Margonari. Nell'incipit proprio del vostro programma, voi dite, siamo entrati nel decimo anno della crisi economica, chi dice che dalla crisi si sta uscendo mente, non dice la verità. Questo è l'assunto da cui poi partite proprio per sviluppare il programma. I dati però che escono, i dati IMSS sulla produzione industriale di oggi, o quelli dell'IMS che sono stati resi noti, parlano, dicono, oggi sono più, nel 2017, più 488 mila posti di lavoro. È vero che l'IMS dice che solo il 23% è stabile perché è un aumento dei posti di lavoro a tempo determinato, a discapito di quelli invece a tempo indeterminato, che diminuiscono. Ma per chi non ha lavoro, non è meglio lavorare a termine che non lavorare per niente? Alla prima domanda sulla crisi, allora, naturalmente l'economia ha sempre i suoi cicli, e dopo un crollo ci può essere, come c'è in questo momento, una certa ripresa. Questo è sempre stato così, anche dopo le crisi più profonde. Però dire che sono state superate le cause della crisi, per esempio la crisi del debito sovrano in Europa non è affatto superata, la crisi delle banche non è affatto superata, e la enorme crisi di sovrapproduzione, cioè quella che ha determinato poi veramente il crollo del 2008, non è superata. E per cui quello che stiamo vedendo non è la ripresa, nel senso dell'uscita della crisi, ma è un rimbalzo che può finire domani, dopo domani, fra un anno, questo nessuno può dirlo con precisione, ma dal punto di vista strutturale siamo ancora pienamente in quella fase. Quanto alla seconda domanda, questa cosa ce la sentiamo dire da 30 anni, il famoso piuttosto che niente, meglio piuttosto, e così siamo passati da un mondo del lavoro che comunque aveva certi diritti, certe garanzie, anche certi livelli salariali, che a forza di dire piuttosto che niente accettiamo questo, è stato trascinato verso il basso, in una situazione di sottosalario, precarietà dilagante. I dati di oggi sono anche diversi da quelli dell'Istat, che parlava di più dell'80% di contratti a termine nel corso dello scorso anno, tra i nuovi rapporti di lavoro, in cui si lavora sempre di più, più giorni, più anni nella vita, più intensamente per salari minori, e c'è sempre un gradino più in basso in cui si propone di scendere. E se non si ferma a questa deriva, continueremo a sentircelo dire per le prossime generazioni. Tedardi. Voi vi siete spiegati perché, nonostante 10 passi anni di crisi, 10 adesso, proprio anni di crisi economica, i partiti di sinistra, lei parlava di una federazione socialista europea, perché tutti i partiti di sinistra in Europa sono andati sempre diminuendo, alcuni addirittura morendo? Questa è una lettura assolutamente non corrispondente alla verità. Sono andati in forte crisi quei partiti, particolarmente il Partito Socialista Europeo, nelle sue articolazioni, che hanno gestito in prima persona l'austerità, come è successo ai socialisti in Grecia, in Francia, anche in Germania sono in forti difficoltà, in Italia con modalità diverse. Sono sorti in molti paesi, movimenti e partiti che hanno raccolto un grande consenso elettorale a sinistra, con programmi anche differenziati, non abbiamo un modello in nessuno di questi, però indubbiamente il successo di Jeremy Corbyn prima nel conquistare la leadership del partito laborista e poi nel risultato elettorale che è stata una sconfitta, ma in realtà è stata una vittoria politica. Il voto a Mélenchon nel primo turno delle elezioni presidenziali francesi, l'ascesa di un movimento come Podemos in Spagna, la stessa Siriza tre anni fa in Grecia, anche se poi ha preso la stessa strada del Partito Socialista, dimostrano che invece una ricerca di un'alternativa a sinistra c'è, è possibile, anche fuori dal nostro continente, se pensa a un fenomeno per esempio come quello di Bernie Sanders negli Stati Uniti, un candidato che si definisce socialista e che come slogan della sua campagna aveva, ci vuole, la rivoluzione politica contro la classe dei miliardari e che raccoglie 13 milioni di voti nelle primarie del Partito Democratico. Sono tutti all'opposizione, però nessuno governa. No, si governa, mi verrebbe da dire purtroppo perché... Come lei diceva, appena ha preso le responsabilità di governo, sono fenomeni in ascesa, non si può parlare di una scomparsa della sinistra in Europa, questo intendo dire. Parliamo di immigrazione. Le vostre proposte sono sia lo Ius Soli, e cioè sia la cittadinanza per gli immigrati, che nascono in Italia a prescindere dalla cittadinanza dei genitori. Che altro pensate si debba fare per l'immigrazione, che è diventato un tema caldissimo di questa campagna elettorale? Sì, lo è diventato, nonostante poi la cosiddetta emergenza, i numeri ci dicono essere un po' diversa da come viene dipinta. Noi abbiamo una legge sull'immigrazione catastrofica, oltre che ingiusta, che ha creato oceani di clandestinità, precarietà, sofferenza e anche di vittime, perché è chiaro che laddove si spinge le persone in una condizione di illegalità, di clandestinità, si creano anche queste tragedie. Noi partiamo da un dato di fatto, che oggi una parte consistente, innanzitutto del mondo del lavoro, della classe lavoratrice, che è quella a cui noi vogliamo rivolgerci, è costituita da cittadini di altri paesi che sono venuti qui, e crediamo che sia un concetto elementare, che laddove ci sono diritti diversi, si è tutti più deboli, e laddove invece i diritti sono parificati, sono comuni se tutti più forti. Per cui le nostre proposte nascono sicuramente da un concetto di giustizia, di lottare contro una discriminazione. In queste elezioni ci sono milioni di persone che lavorano in Italia, pagano le tasse in Italia e vivono qui e non potranno esprimersi sul loro futuro, su chi li governerà dopo il 5 di marzo, ma anche avanziamo questo tipo di proposte anche proprio per una considerazione di maggior forza di quelli che noi vogliamo rappresentare, organizzare, ripeto. Dove c'è una divisione, che può essere quella di nazionalità o di altro genere, tutti sono più deboli, perché c'è sempre qualcuno più ricattabile che può essere usato nella guerra tra poveri. Rubino. Voi partite da un assunto. La sinistra o è anticapitalistica o non è? Allora, le chiedo se nell'Italia di oggi, secondo lei, esiste ancora una coscienza di classe anticapitalistica o se ormai populismo e antipolitica sono riusciti a intercettare i disagi del popolo degli esclusi, no? Elettoralmente sicuramente negli ultimi anni è stato come dice lei. Io direi questo, noi abbiamo verificato anche in questa campagna elettorale, anche raccogliendo le firme, per esempio, per poter presentare questa lista, che esiste un'enorme rabbia, un'enorme molto maggiore di quella che può emergere diciamo nel dibattito politico che viene rappresentato quotidianamente. Forse non c'è grande chiarezza su quello che si vuole, ma c'è una crescente chiarezza su quello che non si vuole più. Questo non significa che ci sia un'alternativa a portata di mano domani mattina, ne siamo consapevoli, infatti stiamo facendo una battaglia controcorrente, di questo abbiamo perfetta consapevolezza, ma credo che alla fine saranno le condizioni, sono le condizioni che spingono a determinate conclusioni politiche quando parliamo di larghe masse di milioni di persone. Cioè è verificare che la strada su cui si è non porta da nessuna parte che può convincere e spingere a cambiare rotta, a cercare una soluzione da un'altra parte. Il titolo del vostro movimento è Per una sinistra rivoluzionaria, ma che rivoluzione? Qual è la rivoluzione oggi? Rivoluzione oggi, come anche ieri, per noi vuol dire che il potere economico e il potere politico passano nelle mani di quella larga maggioranza, che sono i lavoratori salariati, gli altri strati sociali vicini, che oggi non detiene né l'uno né l'altro. Per questo abbiamo al centro del nostro programma non prevalentemente ragionamenti politici di schieramento come quelli di cui domandavate prima, ma quello che per noi è il nocciolo. Cioè mettere le mani su quelle risorse economiche, produttive, eccetera, che possono consentire veramente di prefigurare una società diversa. Come mettere le mani su queste risorse? Come mettere le mani? Ce lo diranno gli avvenimenti. Noi indichiamo una strada. Pensiamo che un governo di cui noi vorremmo un domani essere parte potrebbe avanzare proposte di nazionalizzazione, di esproprio, di presa di possesso di quelle grandi risorse che sono le grandi banche, grandi gruppi industriali, ciò che è stato privatizzato negli ultimi 20 o 30 anni, che è tanto nel nostro paese come ovunque, la grande proprietà immobiliare, e usare questo per pianificare, per progettare un'economia che non funzioni più. Ma quali dovrebbero essere i criteri secondo cui questo poi dovrebbe avvenire? I criteri... Cioè tutte le banche... Ciò che è necessario. Tutte le proprietà immobiliari? No, non tutte. Noi parliamo... La verità è che quando parliamo di questo parliamo di una ristrettissima minoranza. Se guardiamo quello che è la distribuzione della proprietà, del potere, di cui accennavo anche prima, in campo economico, nel nostro paese, ovunque, in realtà, quello di cui parliamo è di attaccare una piccola minoranza, ma una minoranza estremamente potente. Dopodiché faccio presente che in altre parti del mondo, ma non poi così diverse dalla nostra, in momenti di grande crisi ci sono stati movimenti che hanno provato a camminare esattamente in questa direzione. Per esempio, nella crisi latinoamericana dei primi anni 2000 ci sono state centinaia e migliaia di aziende che sono state occupate e autogestite dai loro dipendenti nel momento in cui la crisi faceva sì che la proprietà le abbandonasse o comunque le lasciasse in condizioni di non poter più funzionare, dimostrando una verità che per noi è elementare, ma che non viene riconosciuta quasi mai. Cioè che un'azienda senza lavoratori non può funzionare, un'azienda senza un proprietario privato può invece funzionare. Ed Aldi. Sì, io volevo chiederle se voi fosse in Parlamento e ci fosse il governo Movimento 5 Stelle, guidato dal Movimento 5 Stelle, votereste sì alla proposta di reddito minimo garantito? Ma se la proposta è quella che vediamo ne dubito fortemente, perché il 5 Stelle propone avanzato una proposta che non è garantire le condizioni di esistenza a chi per un motivo o per l'altro è stato espulso dal mondo del lavoro e non riesce a entrare. Ma è di creare un mondo che sta a cavallo tra un sottosalario e una disoccupazione per farlo entrare in concorrenza col mondo del lavoro che ancora gode di certe tutele come i contratti nazionali di lavoro. e pertanto si inserisce in un filone che sta dilagando che ha varie forme appunto di cercare di far premere la massa dei disoccupati che è tanta purtroppo nel nostro paese e particolarmente fra i giovani con forme di lavoro gratuito o semigratuito in cui lo Stato semplicemente metterebbe quel minimo indispensabile per garantire a queste persone la sopravvivenza ma non certo un reddito degno di questo nome e dunque per come l'abbiamo vista avanzata in questi mesi la consideriamo una proposta che non cerca di costruire una maggior unità e vicinanza di diritti tra chi ha un lavoro e chi appunto è rimasto senza ma piuttosto uno strumento per mettere in concorrenza il disoccupato o il sottoccupato con chi ha un'occupazione tra virgolette stabile che peraltro si sta sempre più riducendo per cui se questo fosse l'approccio penso che saremmo contrari. Che profilo hanno i vostri candidati? Come li avete scelti? I nostri candidati abbiamo cercato di privilegiare una rappresentanza di realtà del mondo del lavoro di realtà di lotta anche di militanti che hanno una storia politica e sindacale per cui abbiamo candidato per esempio diversi lavoratori del gruppo Fiat perché quello è stato un po' un epicentro con la vicenda di Pomigliano e di Marchione diciamo dello sfondamento che si sta tentando di fare nei diritti del mondo del lavoro così come lavoratori o lavoratrici che si sono trovati in vertenze di difesa per esempio dei posti di lavoro in quelle aziende che smantellano che spariscono come può essere oggi il caso dell'Embraco ma purtroppo ce ne sono tanti altri o che si sono trovati in un altro ambito a battagliare contro un'altra delle grandi piaghe che c'è oggi che è quella di lagare di appalti subappalti in tanti settori dell'economia che sta demolendo anche lì i diritti contrattuali salariali in sostanza vorremmo cercare di rappresentare quell'identità di classe che ci si domanda se c'è o no sicuramente è parte fondante dell'identità della nostra lista cioè una lista che anche nelle sue candidature chiarisca che si batte contro chi sta togliendo salario salute diritti e dignità a chi lavora in questo paese Rubino voi dite riprendiamoci i sindacati le chiedo in che modo la politica rivoluzionaria può tornare appunto nei sindacati oggi noi crediamo che i sindacati in particolare i maggiori dunque ci riferiamo al gruppo dirigente della CGL in primo luogo abbiano anche loro grandi responsabilità nello stato della sinistra e in generale del movimento operaio nel nostro paese perché sono stati incapaci non dico di sconfiggere ma neanche di reagire a quello che è venuto avanti in questi anni le famose tre ore di sciopero di fronte alla legge Fornero e poi fine dell'opposizione sono una macchia che rimane così come il fatto di non aver contrastato il Jobs Act così come invece era stato contrastato per esempio l'attacco del governo Berlusconi Maroni nel 2001 2002 quando si fu il primo tentativo di togliere l'articolo 18 per noi riprenderci sindacati vuol dire una cosa semplice noi siamo a favore dell'organizzazione sindacale dei lavoratori siamo impegnati prevalentemente nella CGL ma anche in molti sindacati di base vuol dire lottare per un movimento sindacale in cui i lavoratori decidano in cui possano eleggere i loro rappresentanti votare le piattaforme su cui si va a fare della contrattazione o anche della mobilitazione possano eleggere i loro dirigenti in cui il sindacato non sia appendice né dell'impresa né dello Stato quella organizzazione che sul piano economico normativo assume integralmente il punto di vista dei lavoratori e lo difende coerentemente a proposito di lavoro lei citava l'embraco oggi la notizia è il fallimento dell'ultima speranza della marcia indietro dell'azienda che non c'è stata e quindi l'embraco società della Whirlpool quindi multinazionale comunque se ne va lì c'è stato in questa storia invece una concordanza poi di intervento alla fine del governo c'è Calenda che è intervenuto i sindacati i lavoratori con la protesta che hanno fatto ma di fronte poi alla decisione dell'azienda e alla scelta della delocalizzazione in Slovenia non c'è stato nulla da fare voi che soluzione avreste proposto? Io penso che i lavoratori dell'embraco come tanti altri di aziende più o meno note che sono trovati e si trovano in queste situazioni hanno solo una chance o loro occupano quello stabilimento e portano avanti una lotta capace di imporre al governo prossimo una legge che dice multinazionale te ne vuoi andare vai dove vuoi ma la fabbrica resta qui i macchinari restano qui gli impianti restano qui andiamo ad aprire i libri andiamo a vedere tutti i profitti che sono stati fatti restano qua e quella fabbrica viene presa e messa a fare qualcosa di utile che possono essere i compressori che faceva fino a ieri o qualcosa di altro necessario alla collettività all'economia credo che questa è l'unica vera possibilità perché è vero che il governo ha fatto molto rumore ma alla fine il ministro in particolare ma alla fine cosa propone più sgravi più facilitazioni regaliamo ancora più soldi a queste multinazionali così nella concorrenza a ribasso oggi con la Slovacchia domani con la Romania dopo domani con la Cino e il Vietnam cerchiamo di abbassarci anche noi a quel livello di costi e su questa strada non si va da nessuna parte questo non porterebbe il rischio di chiudere poi l'Italia agli investimenti stranieri che sono abituati ad altri modelli di gestione anche a scelte per noi durissime ma per l'impresa tra virgolette legittime come quella di spostare la fabbrica in un posto in cui il lavoro costa meno le tasse sono meno pesanti sì ma io domando qual è la fine di questa corsa a ribasso perché in fondo in questi anni ne abbiamo viste dei multinazionali che se ne sono andati da questo paese in tutto in parte per esempio una politica delle multinazionali tedesche sul piano industriale è stato molto di riportare il lavoro a casa loro per garantire non solamente di delocalizzarlo in paesi a basso costo del lavoro a basso costo costo fiscale è chiaro che questo quanto noi diciamo richiede una prospettiva internazionale naturalmente richiede anche un conflitto che possa essere capace di manifestarsi anche sul piano internazionale peraltro dovrebbero esistere a proposito di riprendersi i sindacati anche coordinamenti europei internazionali quindi andrebbero ridisegnate le regole naturalmente sì noi non crediamo che ci sia la soluzione in un paese solo come crede qualcuno che è passato qua prima di noi però d'altra parte crediamo che ripeto questa gara a ribasso possa semplicemente trascinare tutti quanti sempre più in giù Tedaldi nella Germania è guidata da anche la Merkel che certo non è un esponente di sinistra nelle aziende i sindacati sono partecipi del CDA delle operate dei consigli di amministrazione e addirittura nel comparto guida diciamo della industria tedesca si è arrivati a una settimana di lavoro di 25 ore in via assolutamente provvisoria per chi ha problemi familiari quindi è sicuramente circostanziato però si arriva a ridurre addirittura 25 ore questo modello di sindacato che lavora insieme all'azienda alla proprietà dell'azienda per voi è troppo distante o può essere un modello? Ma intanto quel modello la cosiddetta cogestione che viene da lontano ha anche altre facce perché comunque la Germania ha ormai una larghissima parte della sua forza lavoro che vive con salari molto bassi con contratti cosiddetti mini jobs con poche ore di lavoro queste sono le riforme che io chiamerei contro riforme fatte dalla social democrazia quando governava con Schroeder e dunque è un modello che tutela settori sempre più ristretti del mondo del lavoro anche se molto importanti e per cui non lo riteniamo un modello praticabile anche perché poi si sa che quando queste cose vengono importate in Italia di solito si importano tutti gli aspetti negativi e positivi scusate gli aspetti negativi e nessuno di quelli positivi il sindacato complice come si diceva dell'azienda come si disse in Italia quando ci fu la controversa nel gruppo Fiat è un sindacato che non ha saputo difendere i lavoratori detto questo il contratto che parla di ridurre 28 ore settimanali su base volontaria eccetera non è una riduzione generalizzata d'orario di lavoro comporta una perdita di salariale per chi lo richiede è condizionale come lei dice però un punto positivo l'ha avuto perché ha riaperto in Europa la discussione sull'orario di lavoro e sulla necessità di ridurlo che per noi è un punto centrale del programma Rubino visto che voi non limitate la rivoluzione a un solo paese ma avete una prospettiva internazionalista volevo sapere con quali partiti o movimenti internazionali vi relazionate ma noi che conduciamo la nostra battaglia in tanti paesi in maniera simile a quello che lo stiamo facendo in Italia però crediamo importante confrontarci con quello che scaturisce laddove esistono degli effettivi processi di presa di coscienza di mobilitazione popolare dei lavoratori o di altri settori popolari per cui ci è sembrato per esempio importante nell'ultimo decennio o quindicennio rapportarci con quelle esperienze latinoamericane di cui accennavo prima che ha sempre implicato un approccio critico perché non crediamo che ci siano né partiti guida né stati guida ma crediamo che anche qui per usare un vecchio motto un passo avanti del movimento reale a volte vale più di 100 programmi corretti dunque laddove c'è un paese una realtà dove si crea questo tipo di protagonismo noi dobbiamo sempre cercare il rapporto solidale il rapporto di una battaglia comune e a volte anche di un rapporto critico ma diciamo per condurre al meglio questa battaglia se voi riuscisse lei ha già detto che questa lista questo simbolo è l'inizio di un progetto è stato molto chiaro non vi aspettate risultati clamorosi ma se riusciste a entrare in Parlamento voi con chi sareste disposti a dialogare addirittura ad allearvi allearci è una parola talmente generica noi abbiamo un programma questo programma ne stiamo parlando è chiaro che se ci fossero altre forze parlamentarie non perché abbiamo parlato anche per esempio del mondo sindacale disposte a fare battaglie comuni anche su pezzi di questo programma perché è chiaro che ci possono essere prospettive diverse saremmo ben contenti di farlo per cui se domani si aprisse la possibilità di una battaglia reale che abbia un effetto mobilitante anche nel Paese non soltanto di fare schermaglie in un Parlamento per uno o qualsiasi dei punti fondamentali che noi proponiamo o altri che venissero posti dalle circostanze non avremo nessun problema a discutere e a verificare l'effettiva possibilità di questo Margo Nari nel vostro programma voi avete un punto dedicato alla lotta per i diritti delle donne la parte che mi colpiva che fra le cose che suggerite è la rete di strutture pubblica per il sostegno di parenti anziani cioè quindi già delegando la gestione degli anziani all'universo femminile quindi non calcolando che possa essere forse una misura diciamo universale nei confronti degli uomini e delle donne ma a parte questo a questo punto viene da chiedervi quante donne avete candidato e che ruolo hanno le donne nel vostro partito? le confesso la percentuale esatta non me la sono fatta ridare come sa la legge impone ma al di là della legge una percentuale non superiore la 60-40 sia sulle teste di lista però io credo che l'obiezione che lei ci fa sia solo formalmente giusta ma in realtà ceda diciamo a una rappresentazione non vera della realtà perché poi la realtà è che è sulle donne che ricade un certo tipo di lavoro è uscito un dato dell'INA se non vado errato qualche giorno fa che dice che sul numero di donne che abbandonano il posto di lavoro perché hanno un figlio in questo caso che era 16 o 17 mila quando c'era l'ultimo governo Berlusconi adesso è arrivato sulle 27 mila e parliamo non di donne che hanno un lavoro precario ma proprio contratti di lavoro che vengono rescissi perché non ce la si fa e di che donne si parlava erano dati molto dettagliati concentrava il problema si concentrava naturalmente sulle qualifiche più basse sulle operaie sulle impiegate e i motivi che venivano dati erano molto semplici non c'è un nido non c'è una struttura oppure ha un costo eccessivo che non mi posso permettere situazioni di questo di questo genere noi crediamo che sia un interesse specifico delle donne questo non implica e non nega una battaglia per esempio per una giusta equa ripartizione di certi compiti nella famiglia tra uomo e donna o chi c'è ma che il vero modo di liberarsi sia portare questi compiti gravosi e faticosi il più possibile in una sfera sociale pubblica dunque gestiti da strutture pubbliche dove sia per competenza sia per condizioni economiche eccetera ci possa essere un approccio che non rinchiuda nessuno a dover sacrificare una parte della sua vita in una mansione obbligata di questo genere che non significa naturalmente negare la possibilità e la necessità degli rapporti familiari abbiamo tempo per una domanda velocissima e una risposta altrettanto veloce quasi siamo ormai alle battute veramente molti hanno visto la foto di Pierferdinando Casini sotto le immagini di Gramsci e di Togliatti è un vostro nuovo compagno lo riconoscete come un vostro possibile alleato Antonio Gramsci Casini Casini no Gramsci come si spiega questo passaggio questo lo chiede al Partito Democratico senta prima di concludere lo spazio veramente per un telegram che governo vi piacerebbe vedere uscire da queste urne guardi da queste urne con questa situazione qualsiasi governo sia il programma già scritto e si discuterà solo le sfumature è quello che è successo dopo il 2011 dopo il 2013 dopo il referendum del 2016 quale che sia stato il voto il cosiddetto pilota automatico sta viaggiando e la politica d'austerità prosegue io la ringrazio ringrazio Claudio Bellotti della lista per una sinistra rivoluzionaria ringrazio anche le colleghe che ci hanno accompagnato in questa lunga serata che sono Monica Rubino della Repubblica grazie grazie a Elisabetta Margonali del TG3 e a Barbara Tedaldi dell'Agenzia Giornalistica Italia grazie a voi per l'ascolto le tribune tornano lunedì prossimo grazie buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti